Ciao dolci unicorni, ho qui i nuovissimi, my lovely baby newborn Sono appena arrivati in edicola e c'è scritto Bebe, più accessori, più secret bag Secret, secret, io sono curiosissima di scoprirli insieme a voi Sono della The Kids, quindi sono tutti da scoprire Iniziamo intanto ad aprire la confezione dove all'interno c'è questo qui che è il magazine Fatevelo dare sempre insieme al vostro baby Ok, iniziamo a spacchettare, wow Inizio da questo qui, ok, andiamo a caso Quindi, allora, la confezione si presenta in questo modo Costano 4,99€ l'uno E qui c'è scritto, bebe, più accessori, ok Ma che carina, ma che cos'è la pucciositia, mamma mia Qui ci sono praticamente i 12 bebè che noi possiamo trovare E poi c'è scritto un bebè segreto e raro Quindi uno top secret Quindi saremo fortunati oppure no, non lo so Iniziamo perché sono curiosa di capire come sono fatti E c'è ovviamente la protezione, quindi prendo subito Gennaro Eccolo qui il nostro amico Gennaro Quindi faccio un tagliettino così, ok E apriamo E wow Ma cosa sbuca? Ma è bello grande Cioè, è grande Ok, vediamo Mamma mia, intanto lo tengo così Vediamo se c'è tipo la bustina Cosa c'è qui? Apriamo la bustina Cosa c'è? Cosa c'è? Oh, c'è un biberon C'è veramente un biberon E mi ricorda anche qualcosa Non è di quelli là gommosi È di quelli là tipo rigidi Ok Questo qui lo leviamo, lo leviamo Vediamo Oh ma no Ma che carino però Che carino Ma ciao Sono fatti comunque molto molto bene Alla panzottina Che carino, che carino La puccioseria E mi piace che il cappellino è un amore Perché non so che cosa dovrebbe essere tipo Forse un cane Sì, sicuramente un cane Perché ogni cappuccio Comunque ogni cappellino di sopra Se non sbaglio Sono tipo gli animali Dovrebbero essere tipo gli animali C'è il pulcino Se non sbaglio Il cane Che abbiamo trovato praticamente questo Sto notando una cosa Che non c'è una checklist Quindi non sappiamo il nome A questo punto glielo dovete dare voi A quanto sto capendo Quindi non c'è una checklist Però è carinissimo Si ci può togliere Ah, si ci può togliere Quindi sono intercambiabili Ok Ui capellini Ok Ti rimetto così Così tu dormi Sei tranquillo Ok Andiamone subito ad aprire un altro Perché adesso Vediamo chi troviamo Apriamo Ok Gennaro Tu devi stare sempre qua insieme a me Perché sono tutti con la protezione Apriamo Uh 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 Anche questo qui è tipo sul bianco Ma è diverso Mettiamolo così Apriamo subito la bustina Perché io prima voglio vedere l'accessorio Ah l'accessorio cambia Ok Non è sempre il biberon In questo caso È una caramellina gigante Ed è rigida Non è di quella morbide È un accessorio rigido Per una caramellina Che carina Sembra tipo una femminuccia Mi sembra che è una femminuccia Ha le guanciottine rosa E a differenza dell'altro Li cambia il cappellino E anche E sembra strano Allora le labbra Sono diverse Le guanciottine Sono diverse E il pannolino Chiamiamolo così Mutandine Pannolino Sono diversi Ma che carina lei Potete secondo me Dare tutti i nomi che volete Anzi Iniziate a dare i nomi Questo qui non capisco che cos'è Cos'è tipo un pulcino Un gufo Mi sa che è un gufo Perché questo qui dovrebbe essere La codina del gufo Quindi la chiamerei gufetta Sì Gufetta Mi piace Mi piace Gli ho dato già io il nome Molto bene Ok andiamo avanti Con qualche altra bag Vado ad aprire questa qui Apriamo Rosa 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 Vedo qualcosa di rosa Ok Ok Che carino Ma chissà Cosa troviamo qui Vediamo È un vestitino Ah ma quindi possiamo trovare Non solo ad esempio il biberon Non solo tipo un accessorio a parte Ma anche un vestitino Perché questa qui è una maglietta Con una bigrande Grande al centro Ed eccola qui No vabbè Che carina Ma è un amore Mamma mia Le braccia sono tipo Un po' molle Din 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 Ok Oh che carina però La femminuccia Che amore Che animale è Non lo so È un altro gufo O una civetta Non lo so Forse è una civetta Non lo so Ditemelo voi E questo qui Penso che Lo possiamo mettere tranquillamente Anche insieme Vediamo Sì Sì La manina è entrata Ok Col vestitino Secondo me Sono anche più carini Guardate Eccola qui Tutta rosa La puccioseria Ok Andiamo avanti Sono anche belli paciocchini Proprio belli In carne Molto carini Tutti da coccolere Apriamo un altro Questo qui è azzurro 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 E già Non ho capito l'animale Molto bene Sono sempre io Apriamo questa bustina Che non si vuole aprire Ok Uh le scarpine Abbiamo trovato le scarpine Anzi sono delle scarpone giganti Altro che scarpine Sono gigantesche Cioè Guardate Sono giganti Ed è E sono abbinate al maschietto Perché questo qui è un maschietto sicuro È tutto azzurro L'animale Non lo so Quindi fatemelo sapere giù nei commenti Cosa è una volpe No Non lo so Lui è carinissimo Che boccuccia Però sono fatti bene In viso sono fatti veramente benissimo E questi qui Il pannolino è azzurro Quindi è super mega puccioso Vediamo se riesco a mettere le scarpone Sì Si mettono anche molto facilmente Ok E abbiamo il maschiettino Con le scarponcine No Adoro Andiamo avanti Andiamo avanti Velocemente Apriamo subito Un'altra Bag Ok È rosa Questo qui Mi ricorda Quello che Mamma mia Ragazzi È successo Il patatracone È caduto di tutto di più Perché la bustina Si è aperta Ok Prendo tutto quello che è caduto È caduto Un biberon Tutto rosa Con Il tappo bianco Questo qui Mi piace È tantissimo E poi è caduto anche Un piccolo giuggettino Quindi Il piccolo giuggettino No vabbè Che carino Vediamo se si riesce a mettere subito Sì No vabbè Lei è carinissima Trovate un nome Subito 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 Per lei Perché è super mega Iper pucciosa E poi è tutta rosa Molto carina Mamma mia Mamma mia Ok Andiamo avanti A prima non la troveremo Quello lì è raro Non lo so Ok Ma cosa sei tu Ma cosa sei tu È fluo Ragazzi questo qui è Sicuramente fluo E Ma non è che è tipo questo Non me lo dite Perché qui non c'è Non lo so Non lo so Perché è fluo Quindi penso che questo qui O si illumina al buio Ma non c'è scritto Ma non lo so Non lo so Apriamo questo qui Vediamo Intanto che cosa ci ha dato Ed è un biberon Tutto fluo Cioè è bellissimo Questo biberon È stupendo Ed è rigido Poi vediamo cosa c'è Perché c'è anche un'altra cosa Il ciuccio Che è rosa Fluo Cioè fucsia È bellissimo Glielo vado subito a mettere E in teoria Penso che questo qui Sia quello raro Perché non lo trovo Qui Da nessuna parte Perché ha tipo L'animale di un altro Ma il colore è diverso Ma andiamo avanti Andiamo a spacchettare Altre bustine Chiamiamole così E vediamo se magari Riconosciamo quello dorato Quello ultra raro Oppure no Ok Perché ogni volta Penso al raro Oltre al raro Penso subito al dorato Uh che carino Questo è carinissimo Cioè guardate È tipo lilla È stupenda Che carino Ciao Questo mi piace un sacco Mi piace tantissimo Il cappellino Vado a togliere tutto Se no qui succede Veramente il padre tracone Leviamo anche Gennaro Apriamo la bustina E qui cosa c'è? C'è una magliettina Lilla Quindi anche lei Avrà la sua magliettina È super mega carina È pucciosissima Troppo 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 carina Ok Poi la magliettina Gliela metto anche dopo Perché sono curiosa A questo punto di capire Abbiamo le ultime Confezioni Da spacchettare insieme E sono curiosa Allora Qui vedo qualcosa Di azzurro Ok È diverso Da quello che ho trovato Prima Molto bene Molto molto bene Che carino Guardate questo qui Questo mi piace un sacco È azzurro Bianco Ma tipo un fiore gigante E poi C'è anche Il ciuccio Apprezzo tantissimo Che ci sia Nella maggior parte Dei nostri piccoli Il ciuccio Che è una cosa Che io amo vedere Nei bambini E quindi Mi fa impazzire È diverso Da quello che abbiamo trovato Prima Quindi molto molto bene Andiamo avanti Andiamo avanti Se siete un tonfo È che ho buttato L'intera confezione A terra Molto bene Apriamo Spacchettiamo Ok Questo mi sa che c'era Nella checklist Perché l'ho visto E questo qua Ed eccolo qui No Vabbè Mi piace che I cappellini Sembrano che siano fatti Tipo all'unginetto Tipo fatti lavorati a mano Sono molto molto carini Allora Qui cosa abbiamo Abbiamo il biberon E il ciuccetto Il ciuccetto Ok Ed è tutto 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 Bianco Mi piace Mi ricorda come se fosse Pieno 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 di latte E qui abbiamo Il suo ciuccio Che anche in questo caso È bianco Abbiamo l'ultima confezione Da aprire insieme E da qui capiamo Se è quello raro È quello che ho trovato prima Oppure no Vediamo Apriamo E mi sa di sì Perché questo qui C'è anche Quindi Quello che ho trovato prima Era quello raro Sì Mi sa proprio di sì L'accessorio di questo Cos'è che non lo capisco Toccando così Che cosa sarà mai Ah sono un paio No Che cosa sono Tipo un paio di Occhiali d'aviatore Ma che carino Cioè lui va in moto Va da qualche parte No Ma che carino Sì Mentre dorme Mentre va tipo con la moto Ma me lo sono immaginato Tipo così Sono carinissimi Sono pucciosissimi Sono super mega Iper kawaii Mi piace il fatto che Le boccucce I loro volti Siano comunque Molto veritieri Ecco rispetto alla realtà E poi a me i bambini Mi fanno letteralmente Impazzire Perché sono pucciosissimi E mi sa che questo qui Quindi era Quello raro Quello super mega Iper fluo E quello raro Che dire Sono super pucciosi I nuovissimi My lovely baby New born Mi piacciono tantissimo Vi ricordo Che li potrete trovare In edicola Al costo di 4 euro E 99 Io vi mando Un grandissimo bacio Super mega Iper puccioso Vi voglio bene E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao dolci unicorni Ciao dolci unicorni